...i nomadi ma del periodo di Augusto, non dopo, ma è il paese delle favole. ...i nomadi ma del periodo di Augusto, non dopo, ma è il paese delle favole. ...i nomadi ma del periodo di Augusto, non dopo, ma è il paese delle favole. ...i nomadi ma del periodo di Augusto, non dopo, ma è il paese delle favole. Non è sciocco, non è contento, ma lavora in un mulino ha vinto Alibaba e 43 droni hanno già vinto le elezioni Anzi le credo l'ho mostrato, una paprika di cioccolato Le alice nelle bottiglie, cerca del suo meravigliere Le alice, le alice, le alice, le alice, le alice Le alice, le alice, le alice, le alice, le alice Gli schivali delle certe leghe fanno a bolla situazione Le scuole delle streghe le ha battute in aviazione Bolli cima nella cilia, gli compare la microspia E a voi intellettuali, ne avete già discusso A che serve toglierla con la storia del rifiuto A che serve toglierla con la storia del rifiuto Un campione, la matriga e le alice, le alice, le alice, le alice E a voi intellettuali, non ne avete mai discusso Di come torna l'onda alla fine del rifiuto A che serve toglierla con la storia del rifiuto E mi mandate un applauso speciale a Pernice Che ci ha causato la storia da tantissime Bravo Peppe, bravo